Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale siamo ancora qui con World of Warcraft siamo a Tanaris e se guardate la mappa appunto a nord di Tanaris trovate questa spedizione che si chiama Zulfarak è di livello 44 o 54 dovrebbe essere sì o comunque giù di lì e a me piace personalmente mi piace molto con la spedizione qua naturalmente cinque giocatori abbiamo cinque boss siamo arrivati al primo boss vediamo un attimino non me lo ricordo neanche ah sì adesso sì devo premere il dong e arriva lui il lucertolone gigante qua tipo un idra a tre teste senza le teste che gli ricompargono naturalmente sto prendendo un botto di esperienza di punti quelli quelli strani non capivo si era buggato un attimo non mi attaccava non faceva niente siamo arrivati al secondo boss adesso saliamo qua in cima troviamo il secondo boss mi sembra che lo secchiamo liberiamo i tizi e dopo c'è ancora un casino quando scendiamo troviamo tutto un casino di gente abbiamo ovviamente guardate come fiorio facciamo fuori tutti tutti che ci attaccano tutti che arrivano qua e tutti che muoiono a parte questi che hanno detto noi ce ne stiamo in disparte mi serve un messaggio non ho un messaggio guardate questi che compaiono dai però siete lenti ragazzi siete in una battaglia andate a piedi così piano vai tutta la marmaglia di gente che buongiorno è anche ora dai hai bisogno di qualcosa cosa c'è al nano che sta scappando andiamo qua in cima e troviamo gli altri boss si chiama prima questi attiriamo l'attenzione facciamoli fuori tutti ok molto veloce molto semplice e facciamo fuori anche questi questo è l'altro boss che prima è buono è tranquillo dopo gli fottiamo le cose e lui si incazza e ci vuole saccaniare il botte no non ci fa niente ok ok uscendo un po' da tutto il labirinto dobbiamo andare qua che troviamo l'ultimo boss di questa spedizione che ci attaccherà insieme ai suoi mille lucertoloni qua poverino siamo a livello troppo alto per quelle spedizioni qua quindi non ci fa niente non difatti è già morto facciamo fuori anche questi e basta niente ragazzi questa spedizione è finita io vi invito a registrarvi al mio canale a share tanti like e a commentare qua sotto se volete delle altre spedizioni incursioni scrivetemelo pure qua sotto ciao ragazzi al prossimo video ciao